Solo un mese fa il Taranto festeggiava il ritorno in Lega Pro dopo quattro anni di purgatorio in Serie D. La notizia del ripescaggio, sicuramente non giunta inaspettata alla società, non ha solo riacceso gli entusiasmi in una piazza affamata di grande calcio, ma soprattutto innescato dei meccanismi societari e organizzativi che hanno portato al completamento di una rosa che sembra essere all'altezza di un campionato di terza serie. Sì, perché il Taranto, dopo due gare, è secondo con quattro punti alle spalle delle solo Lecce in coabitazione con la corazzata Matera, già affrontata la prima, e la sorprendente Vibonese. Alzi la mano chi se l'aspettava. La vittoria di domenica di Cosenza come annuncio di un campionato da protagonista? Troppo presto per esprimersi. Certo che la gara tra le mura amiche contro il Siracusa rappresenta un'occasione ghiotta per imporsi tra le prime del torneo dopo tre giornate. La prevendita procede già bene ed è facile preventivare la presenza di oltre 10.000 persone nel Sunday Night dello Iacovone. Il Taranto FC nel frattempo ha ufficializzato l'ingresso in società dell'avvocato Antonio Marrone che collaborerà con la società nell'ambito delle iniziative sportive mettendo a disposizione la sua esperienza maturate in diversi anni di collaborazione con alcune società di calcio pugliesi.